gentilissimi sindaci autorità presenti vi giunga d'oltremare il mio saluto il mio pensiero va a voi che oggi siete chiamati a riflettere su quella che fu veramente una frase illuminata di un grande sindaco giorgio lapira il quale parlando del nostro mare mediterraneo per dire che è ancora oggi quello che è sempre stato non non ripeto testualmente ma insomma una sorgente inesauribile di creatività e un focolare di bellezza quella bellezza che salverà il mondo come disse Dostoevsky e soprattutto di fratellanza la fratellanza di cui oggi c'è veramente tanto bisogno ciascuno di noi può tanto tutti insieme possiamo molto di più quello che la fondazione che porta il mio nome ha sempre cercato fin dall'inizio di fare creare qualcosa che possa migliorare questo mondo dare speranza a chi non ne ha e quindi io auguro a tutti buon lavoro e lasciatemi esprimere anche veramente la speranza che i fatti che stanno accadendo nella nostra europa cessino al più presto un cordiale saluto a tutti